Chelsea, che caos, due approvano l'esonero di Potter. Londra, Inghilterra, finisce senza infamia e senza lode l'avventura di gran Potter al Chelsea. Dopo 31 partite deludenti e la recente sconfitta maturata a Stamford Bridge contro la Stumvilla. Il club londinese ha deciso di dare il benservito al tecnico che non ha riuscito a invertire il trend di una stagione che continua a essere negativa nonostante il Chelsea sia chiamato a disputare. Prossima settimana, l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Chelsea, quei like di. Adesso al Chelsea comincerà una nuova era, con Nagelsmann iniziato numero uno a raccogliere il testimone di Potter. Chiamato lo scorso settembre per sostituire Tuchel. Alcuni giocatori però non sembrano rammaricate dalla decisione della società. Anzi, tutto il contrario, Aubameyang e Zakaria hanno infatti messi un like sospetto su Instagram ad alcuni post degli fanpage del Chelsea che annunciavano l'esonero del loro allenatore. Aubameyang e Zakaria approvano l'esonero. La reazione social dei due giocatori non è ovviamente passata inosservata ai tifosi del Chelsea, Aubameyang e da tempo ai margini del progetto Blues. Complice anche la trasferta non autorizzata a Barcellona per seguire il classico della sua ex squadra contro il Real Madrid. L'ex centrocampista della Juventus non è invece stato mai impiegato da Potter, al Chelsea. Zakaria ha infatti giocato, da titolare, solo quattro partite. I due giocatori hanno poi tolto i rispettivi like ma è chiaro che la scelta di esonerare Potter sia stata di loro gradimento. Virgola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.